Allora, salve, vi saluto da Napoli, sono Caterina e con una grande gioia vi presento l'azienda Skyward Commission e chi ancora non mi conosce vi dico che io sono Khatuna Datushwili con le qualifiche dell'investore leader della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini di cui due sono studenti e abbastanza affermati che è una grandissima gioia per una mamma migrata. Sono emigrata da tre anni e solgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esistenza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico e anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi e anche sono un specialista certificato di lingua italiana. L'esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community Skyward che si è sviluppato in Francia, Giorgio, Polonia, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13 mila dollari. Tutto è successo grazie alla comunicazione online e gli investimenti a fine di oggi stanno continuando. Allo stesso tempo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste strettamente pagate, in cui il mio team è attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e il grande disinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora ripresentiamo Skyward Community, opportunità di offerte commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è proprietà di signor Anatoli Junetsky, con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 4 miliardi di dollari. Ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Lo stesso Anatoli Junetsky ha già 73 anni ed è sicuro che al 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. ma chi siete ancora prima volta collegati e non sapete, Skyway è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Sky ad altri modi dei modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su sopporti che occupano poco strumento sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimancono entrate. Il trasporto Sky è controllato da un'autopilota. Ciò riduce il numero di potenziali incidenti. E l'aerodinamica del trasporto Sky consente di raggiungere velocità fino a 500 km a fino un'ora e anche la costruzione della struttura Line Sky richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E vi presento con una grande domanda e sperando in un futuro migliore con Sky Transport. Allora potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che quando carico un'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o altra materia. Il clima e quindi crea danni alla natura. Non stiamo partecipando a questo progetto. Vogliamo salvaguardare il nostro destino del nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada non già esistette e la produzione di energia al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. c'è un stabilimento di produzione, un centro innovazione, Sharjah e anche il MISC, dove lavorano 3.000 ingegneri, istruttori e esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia. Nessun trasporto prima che esisteva esisteva per oggi non ha garanzia così per così tanti anni. Allora quando costruisci la costruzione di Skyway consumi meno 20 volte meno perché non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, versare acqua e rompere le rocce per costruire questa strada. Non necessari sono i soliti supporti con il binario di fune per viaggiare su SkyTrasport e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. E allora esistono 3 tipi di passacorde rigidi, semi rigidi e elastici, ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Vediamo. E come sappiamo allora quando un auto accelererà ad alta velocità si deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro SkyTrasport è mila volte più facile da gestire e grazie allo acqua filato e il grado di raggiungere cinquecento chilometri. Allora veramente in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. porti si è una possibilità dal futuro che già è disponibile veramente lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità e costruire le strade di linea string sarà molto utile per la nostra pianeta per la umanità per tutti 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 anche per gli animali uccelli eccetera eccetera e vediamo il transport che già è presentato già è realizzato e possiamo già visitarli ci sono urbani merci ad alta velocità e vediamo gli unibus ad alta velocità capace spostare persone e la sua produttività è fino a cinquecento passeggeri al giorno. trasporto urbano capacità 728 persone in articolati 84 168 persone e la sua produttività è una bella cifra si unica con la sua velocità 150 km è capace spostare 7 8 persone e la sua produttività è fino a cinquantamila passeggeri al giorno e anche merci possono spostare 200.000 tonnellate prodotti materiali per costruire per esempio e tutte le cose che oggi causano traffico sulle strade e questo problema è unibus con la sua capacità 34 14 persone in articolati fino a 84 persone possono avere produttività fino a cinquantamila passeggeri al giorno l'unico anche anche corri è più veloce ti porterà cosa avrai ordinato e sappiamo che le strade sono congestionate ad auto che con la loro emissione possono causare inquinamento insomma malattie purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa in molti incidenti negli anni 70 si esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 scusate signor nato uneschi scienziato inventore proteggista di navi volanti e presento il suo primo articolo scientifico scientifico dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera e che in cinque anni l'atmosfera era stato molto inquinata continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso allora questa situazione esiste sì a mezzo al covid abbiamo visto i risultati macivo e la circolazione ha causato decenni problemi tra da soffrafolata mancanza di sicurezza dispendio energico colossale e l'inquinamento della natura per i propri interessi e propri obiettivi l'umanità allora sanneggiato la natura e i paesaggi stiamo battendo foreste prosciugando fiumi e bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi alla natura risponde con disastri naturali e questo è il motivo creare per cui scari di trasporto e trasportario più richiesto nella storia dell'esistenza umana e questi tipi di trasporti che già esistevano anche due anni fa e stanno sviluppando più e più grazie di signor c'è anche un sito dove è possibile trovare tutti i certificati e permessi allora con una grande gioia e sperando in un futuro migliore presento da skyward community ogni partner della società skyward community è in una posizione redditizia allora qui è possibile firmare un successore e anche ricevere e tratti aggiuntive dal programma di partner partnership di cui oggi in un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio e il facino della nostra azienda sta nel fatto che una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni rappresentati di 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto è diventato un processo irreversibile di cui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati e questo è un progetto ecologico linea delle cite che saranno ecologici e dove è effettuato abbastanza bene allora allora c'è anche un sito di uneschi punto inginer dove può vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro del signor anatoly uneschi a qual le ha dedicato la maggior parte della scorsa e del suo lavoro quindi quando sei un partner della nostra azienda il tuo profitto è tirare i dividenti i guadagni da programmi di ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi con proprietario di tecnologie e partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come un altro poi crei capital la spensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere dubai e non solo dubai è attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite il valore nominale e che è molto molto importante ehm del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni allora il valore nominale ti ripeto del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e anche molte cose e molte utili sono nella tua pagina quando fornisci registrazione e verificazione completi e ti aprirà tutti i tuoi diritti che potrai trovare sulla tua pagina e tutte le novità che sarà la nostra pagina personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari cosa non avrei potuto fare nella vita reale no? cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra? poi quanti anni dovrei risparmiare così tanto? e per me l'azienda è diventata il senso e il supporto della mia vita e cosa è più importante per te per te può essere importante è importante che ci sia un prodotto reale che puoi visitare sentire la sua velocità e comodità per te stesso non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico con lo quale che ci offre molte opportunità interessanti e anche l'ecotecno park è stato realizzato e operativo in belarussia nella città di marina gorka e anche anche negli emirati arabi uniti in particolare nella città di chalja nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli allora all'università americana degli arabi emirati arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 situazioni l'ospitatore può sperimentare in conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto sky del futuro allora per me per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'italia sia tra i 200 paesi partner è una grande gioia per voi tutti esatto e ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici allora il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative e per voi dopo qui allora c'è tutto il risultato che sarà molto utile per la nostra pianeta allora Skyward Community è stata registrata in Inghilterra Idole Vergini come società europea nel 2014 pertanto i diritti dei single co-partners sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione e in registro pubblico inglese all'indirizzo indicato questo è un order di partecipazione allora dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato 14 fasi del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicessima fase e già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato tecnologia delle stringhe UNESCO che si dice così UNESCO Technology allora allora pacchetti azionari i pacchetti azionari partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti e abbiamo anche offerte specializzate per gli interessati per i bimbi per i studenti per i nostri familiari fare un bel regalo per loro per creare una vita stensierata per loro rappresentate un po' qualsiasi classe sociale può investire è possibile anche usufruire rate interni a tasso zero sul pacchetto azionario e non perdere il tempo ti consiglio non perdere il tempo per ottenere le maggiori informazioni e fornisci al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per tanti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa e dopo quando finisci e completi la verificazione puoi scegliere qualsiasi azioni pacchetti azionari scegliere cosa vuoi creare per il tuo futuro e dopo il completamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci siamo avvicinando alla maturazione dei dividenti e ti voglio dire una cosa molto molto importante che il trasporto esiste davvero il trasporto e si adatta tutte le condizioni climatiche il suo corpo è resistente alla radiazione e converte l'energia solare luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità e ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale più globale più unico e senza per cambiare la tua vita in meglio skybay è un trasporto unico che salverà la vita a migliori di persone migliaia di persone scusate centinaia e anche migliaia di miliardi di animali uccelli e permetterà uno che non può offrire nessun altro trasporto esistente e anche l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo tutti i diritti del comproprietario questo è un grande conforto per noi siamo d'accordo è necessario è abbastanza importante avere eh tutte queste informazioni che eh ci sono già sulla nostra pagina eh quando eh registriamoci il produttore e creatore il signor Renato Junetsky mhm presenta una relazione annuale eh sul lavoro svolto la nostra azienda ha una disposizione del eh denaro se decidi improvvisamente eh di lasciare l'azienda per caso ti offre eh di aggiungere più 4% eh le condizioni restituire i tuoi soldi come mutuatario eh che non offre nessun'altra azienda ti voglio ricordare tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda ehm con questa richiesta però questo precedente non è stato fin rilevato eh come già abbiamo detto mh funziona tramite pannelli solari anche il suo corpo può convertire l'energia solare e e elettricità lavorando praticamente senza sosta in termini trasporto passeggeri può trasportare in molto molto maggiore e in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive e quindi nessun denotano per natura non esiste praticamente eh i termini di incidenti può il può sicuro perché evitano fisicamente tutti i veicoli esistenti ehm ehm guardando che ehm oggi abbiamo tre tipi di dei dei veicoli ehm che necessitano di consumo trasporto marittimo terrestre e aereo e il nostro sky in transport solo che eh ci aiuta migliorare i servizi adesso vi ricorderò i nostri profitti quando entriamo nella nostra azienda e questi ci sono allora i ratei i dividendi a guadagni tram partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro giventi con proprietario di tecnologie e anche partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come fino al troppo e crei capitali per una vita spensierata ha la possibilità di viaggiare per raggiungere dubai e non solo dubai che dipende di te e se ti interessa svilupparsi e andare avanti azienda attività tutte le possibilità di svilupparsi è stato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite è molto molto una cosa molto importante che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni è pare che già oggi quando tu fai il tuo primo investimento tu compri più di qualche centinaia o milaia dollari di più allora questa è già in realtà e lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità e io sostengo che a skyway sperando in un futuro migliore dopo registrazione e trovare questa azienda la mia vita è cambiata per 360 gradi e tutto è cominciato nuovo e posso dire che la mia vita ha maggior parte e mi sono diventata per oggi un speaker che vi posso presentare questa bella possibilità per migliorare la vostra vita e se io ero utile mi fa piacere e allora questa è nostra azienda Skyward Community già oggi per oggi la società Unitsky Street Technology con le sue offerte opportunità e sono stato attratto dalla qualifica di investore leader di questa società chiedere attenzione vi saluto da Napoli ciao ciao